Amici di One After One, oggi per la rubrica I luoghi e volti del vino vado a raccontarvi un'azienda che ha fatto la storia del vino italiano. Una cantina che può essere ben rappresentata utilizzando tre parole, storia, cultura ed eleganza. Sto parlando della tenuta San Leonardo, un'azienda che è posta nella parte meridionale del Trentino, siamo nei pressi della località di Avio e che dal 1724 è di proprietà dei marchesi Guerrieri Gonzaga che l'acquistano dai monaci che prima abitavano appunto questa terra dove sorge la tenuta. Un'azienda che da sempre dedica alla produzione di vino ma la svolta avviene negli anni 70 quando Carlo Guerrieri Gonzaga, l'attuale proprietario che conduce l'azienda insieme al figlio Anselmo dopo aver terminato gli studi di enologia fa delle esperienze fondamentali quindi dopo aver lavorato in particolare alla tenuta San Guido in compagnia di un altro grande enologo Giacomo Takis si innamora di quello che è definito il taglio bordolese quindi si innamora delle varietà tipiche d'oltralpe e le porta nei vigneti di famiglia quindi il Cabernet Sauvignon, il Merlot e poi quello che credeva essere Cabernet Franc presente da moltissimi anni presso la tenuta si rivela poi il Carmener attenzione perché queste tre varietà che ho appena citato poi diventeranno nell'82 la base fondamentale, l'ossatura di quello che è il vino più importante della tenuta San Leonardo che come nella tradizione degli Chateau Bordolesi porta il nome dell'azienda appunto il San Leonardo, un grande vino rosso concepito grazie appunto anche alla collaborazione con Giacomo Takis che nei primi anni lo aiuta appunto a destricarsi con queste varietà appunto a creare questo suo taglio personale diventando di fatto il San Leonardo una delle massime espressioni di quello che è definito taglio bordolese in Italia un'azienda appunto che sorge nella parte meridionale del Trentino i vigneti sono tra i 150 e i 200 metri per quanto riguarda le varietà rosse e quelle che circondano il corpo dell'azienda è un microclima particolare che è protetto dalle montagne montagne che poi garantiscono anche un'importantissima escursione termica tra il giorno e la notte i suoli ciottolosi, sabbiosi e i vigneti in parte a Goyo ma soprattutto a Pergola Trentina che appaiono a chi le vede come un giardino curato veramente con passione ed amore dal 2015 l'azienda poi ottiene anche la certificazione biologica a testimonianza del profondo amore che ha per l'ambiente e per il territorio che dire dei vini? il già citato San Leonardo è veramente un grandissimo vino io ho avuto modo di assaggiarlo in un paio di occasioni la 2010, la 2014 sono assolutamente annate sorprendenti ma è un vino che anno dopo anno veramente si conferma ai vertici un vino che ha sempre un filo conduttore una grande complessità sicuramente al naso ma soprattutto un'eleganza, una bevilità fuori dagli schemi e al sorso che gioca più sull'acidità che sul tannino quindi più sull'eleganza che sulla potenza e con un grandissimo potenziale di invecchiamento la gamma poi si amplia e si caratterizza per altri vini rossi sempre con le varietà appunto d'Oltralpe anche un Carmenere in purezza e poi due vini bianchi uno da Riesling e l'altro da Sauvignon chiamato Vette da vigne però in questo caso poste in luoghi vocati del Trentino dove queste varietà riescono ad esprimersi al massimo e niente da aggiungere se non che veramente lo stile aristocratico quindi dei marchesi guerrieri Gonzaga è assolutamente percettibile nel vini che si manifesta appunto in termini di raffinatezza ed eleganza un'ultima citazione sul Villa Grespi che è appunto la tenuta di famiglia Villa Gresti che è un avamposto ideale dove la famiglia risiede e che può appunto controllare la tenuta e i vigneti avendo sempre sotto controllo quelle che sono poi le fasi delle stagioni quindi un occhio attento importante appunto per avere la possibilità di interpretare quello che è stata la stagione ma sempre nel segno dell'eleganza Villa Gresti che è un altro importante rosso dell'azienda sempre ottenuto da un abile blend delle varietà a bacca rossa a disposizione dell'azienda per oggi è tutto ci sentiamo alla prossima ciao